Carmen e Maria e Enzo sono in montagna? No, sono al mare e si faranno anche il bagno a Mondello. Certo, c'è il sole, però fa freddo, hai preso le giacche a vento, dopo sci, tutto per te, per Maria, per tutto, per il cagnolino. Ho preso pure un'altra cosa. Che cosa hai preso? Le pinne, fucile d'occhiali. Ma davvero? Guarda un po' che mare che c'è. Ma è bellissimo. L'Italia è il paese più bello del mondo. Siamo a Mondello e c'è un mare fantastico, sulla sabbia si gioca. Pensate, gennaio. Maria adesso farà il bagno. Maria ti vuoi buttare? Vai, vieni, 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 vieni qua. Vieni anche con Max, facciamo un bagno tutti e tre e facciamo gli auguri per un felice anno e aspettiamo qui la Befana, eh Maria? Questa è una stagione pazzesca, fa molto caldo e a gennaio ci possiamo fare il bagno. Tanti auguri anche a voi, buon anno! Grazie a tutti!